Dalle prime ore del mattino i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia nei confronti di 13 soggetti, tutti censurati, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Le indagini svolte dai militari della stazione carabinieri di Afragola coordinate dalla DDA Partenopea nel periodo compreso tra luglio 2018 e aprile 2019 hanno consentito di ricostruire le dinamiche organizzative del gruppo criminale dedito al traffico di sigarette il cui approvvigionamento proveniva sia dal mercato illegale del capoluogo napoletano sia dai territori limitrofi al comune di Afragola con successiva distribuzione a cura di una rete di corrieri attiva sul territorio. Sono stati estresì localizzati i punti di rivendita di bionde sul territorio afragolese, individuabili nelle aree limitrofi al cimitero comunale di Afragola, nel centro storico, nonché nel rio Le Salicelle. Sono contestualmente in corso di esecuzione numerose perquisizioni nei confronti di altri indagati a vario titolo coinvolti nel traffico illecito. Nel corso delle investigazioni a riscontro dell'attività di indagine sono stati operati i sequestri per detenzione di tabacco lavorato estero per un peso complessivo di circa 200 kg. Dalle indagini sono emersi legami con soggetti del gruppo criminale Barbato Bizzarro, operante nel rione delle Salicelle di Afragola, dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e al contrabbando di sigarette.